Il peso della politica in quegli anni era il Partito Comunista, che aveva la maggiore influenza nella cultura, praticamente dal dopoguerra tutti gli intellettuali italiani si erano allineati con il Partito Comunista, che veramente era diventata poi la casa madre che li ospitava, li ospitava sulle sue riviste, la rinascita, i quotidiani, veramente era diventata una roccaforza della cultura. Io ero di una generazione molto giovane, e la generazione con cui poi abbiamo fatto quello che si è chiamato l'anno avanguardia, gruppo 63, letteratura, tutto questo, e avevamo una certa, pur essendo quasi tutti di sinistra, avevamo una certa diffidenza per il Partito Comunista, proprio per questa irrigimentazione che aveva provocato e che inevitabilmente gli portava anche a definire una certa linea culturale, che era un po' il sviluppo del neorealismo, che secondo me è stata una cosa straordinaria nel cinema, ma in letteratura è stata una cosa abbastanza negativa. E noi come genere naturale per ogni nuova generazione, per la nostra c'era un effetto veramente più violento ancora, ci siamo molto scontrati con questa generazione, soprattutto per il momento storico in cui questo avveniva, perché come sappiamo tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, in Italia è venuto quello che si è chiamato il miracolo economico, cioè l'Italia da paese agricolo, come era finora, è diventata provisamente nel giro di pochi anni un paese industriale. Tutto questo ha cambiato completamente la vita quotidiana, la società, i costumi, il fatto che ci sono state queste emigrazioni dal sud per lavorare nelle fabbriche del nord, il fatto che la gente ha creato questo nuovo fatto di abitare nelle città, dove si viveva in un modo diverso che nel villaggio dove tutti si conoscono, questo nuovo aspetto del quotidiano, ha creato una nuova influenza, un nuovo modo di pensare, di vivere, di parlare anche, era quello che noi interessava soprattutto perché essendo dei scrittori ci interessava la parola. Ora, fino a pochi anni prima, negli anni 50 ancora, dovunque in Italia si parlava il dialetto, l'italiano, quello che parliamo noi oggi, nasce in quegli anni come necessità, perché operai siciliani che andavano a Torino non si capivano e non erano capiti, per cui a Corea è una lingua nazionale che è nata appunto in quegli anni rapidamente e si è diffusa molto rapidamente grazie alla televisione e alla scuola dell'obbligo anche, che c'è stata, e tutto questo ha creato, secondo noi, un nuovo mondo, una nuova visione che non era più di quella della generazione degli scrittori a noi precedenti, che secondo noi aveva ancora una visione più legata all'Italia agricola che anche a quella nuova, industriale, che stava nascendo in quegli anni. Per cui questo aspetto qui e anche il fatto, la resistenza all'influenza del Partito Comunista, ci ha portato appunto a prendere delle posizioni critiche e anche spesso a prendere delle posizioni critiche e anche spesso a prendere delle posizioni critiche e anche